Sono immersa nella bellezza e sono seduta su un pezzo cartel assolutamente straordinario e credo che sia proprio di avanguardia, perché credo che sia un'assoluta novità. Sono molto contenta perché Milano da ieri è proprio un fiorire di cose, un simbolo di ripresa e un incoraggiamento per tutto il paese, perché noi abbiamo sempre, ed imprese come Cartel con Lungio Miranza ci hanno subito seguito, abbiamo sempre detto che questa Expo sarebbe stata una maniera di tornare allo sviluppo. Cartel ci ha da subito capito, ha capito che il padiglione voleva essere davvero la rappresentazione del miglior made in Italy e quindi con nostra grande gioia, per noi è veramente un piacere e un onore avere Cartel al nostro ultimo piano, è il piano del ristorante e io credo che lì questo arredamento studiato da Cartel, dei suoi architetti, i pezzi scelti, saranno davvero la fusione tra le cose belle italiane che fanno l'Italian Style. Io dal primo giorno ho visto come una grande opportunità per Milano, per tutti gli imprenditori milanesi, per l'Italia, il fatto di partecipare all'Expo e quindi ho cercato in tutti i modi di dare il mio contributo e di partecipare. Subito sono corso perché il Palazzo Italia è la cosa più rappresentativa all'interno dell'Expo, quindi era un grande onore poter essere all'interno di questo palazzo. Ci saranno più 20-25 milioni di persone, ma sono convinto che non c'è solo cibo, ma noi dobbiamo far vedere la parte più bella di Milano, Milano creativa e quindi dentro al Palazzo, a Milano, tutti gli imprenditori penso debbano fare qualcosa per far diventare bellissima questi sei mesi e per dare lo slancio. Dobbiamo uscire dall'Expo per fare benissimo gli anni prossimi, io sono molto positivo perché abbiamo un'occasione che è realmente reale, grande, saremo sotto gli occhi di tutti. Milano non è New York, Parigi, Londra, ma rappresentiamo tantissimo, ce ne accorgiamo tantissimo quando andiamo all'estero. Io ho avuto la fortuna di lavorare nella moda e nel design, ho trovato tutto il mondo che ci rappresenta, ci accoglie in modo fantastico pensando alla nostra leadership. È comodo quel divano? Comodissimo. Guardi, dicevo, ma è bello perché è trasparente, è comodissimo e guardi come appoggio bene la schiena.